Allora, avendo visto il video prima, avete già una buona idea della storia di Marizzo, così accorcia un pochettino, ma avete visto tutti che una bellissima donna giovane di trentenne è un esempio di estremo maltrattamento dalle donne, da suo marito. Lei si è sposato giovane a un contedino, era povera contedina, lei si è sposato giovane e subito ha cominciato a fare i figli e si è reso conto subito che suo marito José era alcolizzato, si ubriacava e poi quando tornava a casa la menava terribilmente, picchiava, violentava ripetutamente per ore e lei non aveva scelta, rimaneva lì a aspettare finché lui ha finito di abusarlo, poi cominciava a avere figli e continuava davanti ai figli a violentare, picchiarla, bastonarla. Finalmente che un giorno le ha fratturato tutte le mani a pezzi e ha aspettato tre giorni, dopo questi abusi terribili rimaneva a casa, a letto, nascosto dal mondo, non dicendo, proteggendo lui, così poteva continuare il suo abuso senza avere responsabilità. Ma questa volta dopo tre giorni con la mano a pezzi è andato a un centro medico e è la solita storia, come tante donne abusate in tutto il mondo, il medico sospetto qualcosa perché sono caduta dalle scale, è classico, sono caduta dalle scale, bugia. Il medico voleva che lei non lasciava il merito, niente, lei aveva paura. Tornata a casa, ingessato, ma non bastava per il merito, furiosa, come si può uscire di casa? Ho cominciato di nuovo a prenderla, bastonata, picchiarla, violentarla, solo lasciando la mano ingessata senza bastonare quella, ma il resto è finito sulla faccia, ha spaccato la manibola, il zigoma, è finito a cercare un occhio. Veramente brutto. Che fa il merito? Alcolizzato, abusivo, terribile, è un mostro, ovviamente. La porto il giorno dopo al centro medico e anche questo è un po' un classico, mi sa. Fa tutto il carino, dolce, elegante, sofisticato, mia moglie, poverina, è caduta di nuovo questa mano ingessata, guarda, è caduta giù le scale. I medici ovviamente non sono stupidi e capiscono, il medico cerca di tirare fuori da lei la verità massacrata questa donna e lei non parla, ha più paura che mai. Questo uomo c'è il rischio che se lei parla lui l'ammazza direttamente lasciando i quattro figli lì con questo ubriacone violento, non parla. E il dottor dice, ma comunque sai che sarai cieco in questo occhio. Accetta, va a casa. Rimane in buio a casa, fisicamente, attualmente in buio, non vede da un occhio, ma pieno di livide, cose, anche la mano ha già rovinato. Ma dice che, ha raccontato a Don Gigi che più che mai obbediva a suo merito, questo José Terrimo. E' rimasto come un cagnolino, facendo qualsiasi cosa che voleva, obbedendo. Ma comunque qualcosa nasce in lei e lei eventualmente decide di scappare. Scappa a Lima con i figli e trova lavoro. E questo anche lo trovo molto interessante, perché lei trova questo lavoro spucciando castagne. Non è un lavoro, ma comunque cerca di andare avanti, dando da mangiare a questi figli. Una forza pazzesca, con la mano che Don Gigi dice, tutto comunque si vede ancora rovinato, con un occhio. Ma fa qualcosa, una capacità di andare avanti pazzesco. E il marito la trova. E convince il primo figlio, il secondo figlio, Alejandro, di andare via con lui da un cellulare. Dice a Marizia se può chiamare al cellulare. Porta via il figlio, non lo riporta. Eventualmente il figlio scappa. Anche lui è ricevuta botte da questo marito che è abusivo, accolizzato. Scappa. E lei è felice, perché di nuovo ha questa figlia. Aveva paura di perdere questo figlio. Non finisce mai il dolore da questa donna. Allora che succede? Eventualmente la polizia viene e il marito ti arriva, ha mandato la polizia a riprendere, dicendo che lei sta facendo un maltrattamento dei figli. Questo marito, dice la polizia. E il capo, il capo molto comprensivo, che le fa? Li manda via dal lavoro. No, la polizia lo manda via. Non c'è più un lavoro. Lei va alla polizia con i figli e racconta tutto. E la polizia, ovviamente la credono. La credono, la lascia libero. La credono perché c'ha la mano, l'occhio, c'ha pure il figlio con i libidi. La lascia libero, ma che non c'ha più lavoro. C'ha quattro figli. Che fa? Va a un'amica. L'amica dice, puoi dormire in casa del mio fratello, c'ha spazio. Ma c'è qualcosa di strano. Dopo un po', è chiamato da questo fratello da un posto isolato. Lui la butta per terra, lo stupra. Toglie i vestiti, li stupra e dice, adio putana. Questa povera donna scappa di nuovo. Scappa con i figli e torna a Porta Maldonado. E dopo un po', scopri di essere incinta di questo che l'ha stuprato. Comunque va avanti. E ecco appunto, ho incontrato don Gigi. E forse c'è un po' di speranza adesso nella sua vita. Non so dove questo osè, dove è finito. Io, se fosse lei, avrei ancora paura. Ma lei, come tante donne, succede queste cose allucinanti. Sappiamo che più o meno uno su tre donne in questo mondo finiscono con abusi del genere. Io che lavoro come giornalista a Roma, ho intervistato Lucia Nibali, che è un uomo gialloso, ha fatto buttare acido nella sua faccia perché non voleva più lui. Io ho intervistato ragazze nigeriane, trafficate qua, per finire per strada come prostitute. Non è, la storia di Maritza è terribile, ma ci sono tante, tante, come sa don Gigi, terribili. Questa zona, America Latina, ha trovato un po' di dati, dice che solo in 2017, 2554 donne sono stati uccisi dal loro partner. Per fortuna Maritza non è stata uccisa, ma mi sembra che è venuto abbastanza vicino. La combinazione di una cultura molto macista in questa regione forse ha contribuito a questo fatto. Anche la grande povertà nella zona che le abita, l'Amazzonia, forse è anche un altro problema. Solo per concludere vorrei accenare che Papa Francesco ha deciso di annunciare un sinodo di vescovi sulla zona Amazzonia, che sarebbe ad ottobre 2019, dove parleranno di tanti problemi della zona e spero anche dei problemi delle donne come Maritza. Ovviamente sarà molto di parlare sull'ambiente, del sfrutto terribile che il mondo fa, di sfruttamento terribile di quella parte del mondo, del popolo indigene, come il resto del mondo abusa quella parte della terra. Comunque, nei documenti preparativi ci sono già qualche accena della situazione delle donne. Poi sarà una cosa che parleranno qua a Roma e spero che le donne come Maritza avranno più chance nel futuro. Grazie. 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 Grazie.